L'omicidio Niro all'appello fissato dopo sette anni nel 2008 Lucio Niro fu ucciso da una fucilata tornava a Baranello dopo essere stato dalla fidanzata a Santa Croce del Sannio assolto l'imputato in primo grado ora il nuovo processo a Napoli il 13 giugno Proclamati gli eletti in consiglio regionale l'ufficialità arrivata a 18 giorni dal voto nessuna modifica rispetto al risultato del 22 aprile torna Toma lavora all'aggiunta tra una settimana la prima seduta a Palazzo da Immo Salta la bandiera blu bufera sul sindaco a Termoli e polemica per l'esclusione della città dall'elenco delle località di mare con il vessillo la minoranza chiede a Sbrocca di lasciare la carica e fare un passo indietro Problemi di viabilità su Fresilia e San Gritana passa in consiglio provinciale a Isernia il conto consultivo l'avanzo è di poco superiore a 800 mila euro ma in via Berta tornano ad attualità i disagi delle strade Caso stipendi i calciatori non arretrano a Campobasso prosegue il tiro e molla con la società entro la settimana dovranno essere pagati febbraio e marzo in caso contrario via alle vertenze Buon pomeriggio un saluto a tutti voi dalla redazione la composizione del consiglio regionale non ha riservato nessun colpo di scena finale dopo la proclamazione di Toma eletto presidente della regione i 20 consiglieri usciti dalle urne del 22 aprile sono quelli che abbiamo sentito e letto in questi giorni senza alcuna modifica dunque dopo ci sono voluti quasi 18 giorni per verificare e controllare tutte le schede ieri tra l'altro i giornalisti hanno atteso più di tre ore in corte d'appello prima di sentire la lettura ufficiale dei nomi il consiglio può dunque cominciare entro la prossima settimana al massimo dovrebbe essere convocata la prima riunione cominciamo da qui e da Pasquale Di Bello a 18 giorni dalle elezioni regionali dello scorso 22 aprile la corte di appello di Campobasso ha proceduto alla proclamazione degli eletti in consiglio regionale dopo quella già avvenuta del presidente della regione Donato Toma sono risultati eletti nel raggruppamento di maggioranza per Forza Italia Nicola Cavaliere, Armandino Degidio e Roberto Di Baggio per Orgoglio Molise Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti per la Lega Salvini Molise, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda nella lista Popolari per l'Italia Vincenzo Niro e Andrea Dilucente per l'Udc Salvatore Micone per Fratelli d'Italia Quintino Pallante nella lista Iorio per il Molise Michele Iorio Sul versante delle opposizioni risultano eletti nel Movimento 5 Stelle Andrea Greco nella veste di candidato presidente primo tra i perdenti seguono Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Vittorio Nola, Valerio Fontana e Fabio De Chirico infine per il Partito Democratico Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli e questa quindi la composizione dell'Assemblea Legislativa Regionale che sarà chiamata ad amministrare la Regione Molise per i prossimi 5 anni la data di prima convocazione del Consiglio regionale per i primi adempimenti ovvero l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza dovrebbe essere quella del 21 maggio prossimo il Presidente della Regione dal canto suo è già al lavoro per la composizione della Giunta quattro gli assessori che potranno essere nominati al momento per il quinto bisognerà aspettare l'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale stessa cosa dicasi anche per il sottosegretario alla Giunta regionale quindi esecutivo a quattro per il momento Tom ha già fatto sapere che procederà ad assegnare le deleghe dando rappresentanza alle liste che hanno conseguito il maggior numero di eletti quindi Forza Italia, Orgoglio Molise, Popolari per l'Italia e Lega Secondo questo criterio e sulla scorta del meccanismo di surroga degli assessori con i primi dei non eletti nelle liste entrerebbero in Consiglio regionale per Forza Italia Massimiliano Scarabeo per Orgoglio Molise Paola Matteo per la Lega, Domenico Ciccarella e per i Popolari per l'Italia Antonio Tedeschi questo sulla base della semplice aritmetica elettorale tuttavia sul piano politico i giochi potrebbero andare diversamente è infatti prevista nelle prossime ore una riunione convocata dal presidente Toma insieme ai partiti della coalizione che lo hanno portato al vertice della regione Molise e la CGL ha indicato al presidente Toma le maggiori emergenze che riguardano in particolare il dissesto idrogeologico la manutenzione delle strade, la messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici e privati il sindacato ha poi sottolineato la necessità di ridare lavoro alle imprese soprattutto del settore edile nel decalogo della CGL ai primi quattro posti sono elencati il completamento della ricostruzione post-sisma il risanamento idrogeologico, la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade il completamento degli edifici pubblici e delle scuole un documento articolato che pone poi l'accento sullo sblocco dei finanziamenti la rete ferroviaria, banda ultrararga, erosione della costa edilizia tutela dei beni ambientali e per Donato Toma c'è stata anche la prima uscita in veste da presidente della regione Molise ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni e ha posto l'accento sulla necessità di rivedere per la regione Molise il decreto Balduzzi sulla sanità ma anche gli accordi sull'acqua sentiamo Marta Martino Sanità, infrastrutture ed acqua sono le priorità che Donato Toma nella sua prima volta da presidente della regione Molise ha portato alla conferenza Stato-Regioni a Roma dopo aver partecipato ad un incontro sui problemi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro alla presenza del ministro Poletti agenda già fitta di impegni dopo solo pochi giorni dalla proclamazione ma come continua a ripetere il neo presidente della regione c'è molto da fare e vanno trovati i canali istituzionali giusti da percorrere il Molise è una piccola regione e ha bisogno di tante cose può comunque fare la sua parte e dare un apporto positivo alla conferenza per iniziare bene il suo lavoro Toma ha affrontato immediatamente la questione spinosa della sanità regionale punto dolente in cima alle emergenze più avvertite dai cittadini revisione del decreto Balduzzi e la soglia dei 600.000 abitanti per avere idea di secondo livello è la richiesta del Molise che non potrà mai affrontare questo paletto troppo alto e non potrà mai raggiungere tali parametri inizieremo un percorso all'interno della conferenza affinché venga modificata la legge quello che chiediamo è l'attivazione di almeno un ospedale idea di secondo livello per regione indipendentemente dal numero di abitanti ha comunicato Toma prima di passare ad un'altra emergenza regionale quella delle infrastrutture e a questo proposito sono stati presi i contatti con la segreteria della conferenza per affrontare prossimamente i temi che stanno molto a cuore ai molisani infine Toma ha evidenziato una delle ricchezze della regione non sfruttate adeguatamente l'acqua che viene captata dalle regioni confinanti come Abruzzo, Puglia e Campania e per la quale il neopresidente chiede una compensazione. In Molise sono presenti tre dighe e una deve essere attivata questa ricchezza va sfruttata meglio con una nuova politica di gestione e valorizzazione delle risorse idriche è stato uno dei casi di cronaca nera più efferati e tra l'altro senza soluzione parliamo del delitto di Lucio Niro avvenuto a febbraio del 2008 per il quale non c'è ancora un colpevole. Nel 2011 è stato assolto il unico imputato ora a distanza di sette anni finalmente dobbiamo sottolinearlo la corte d'assise d'appello di Napoli ha fissato la data del nuovo processo il 13 giugno. Ce ne parla Tonino Danese. Sono passati dieci anni e tre mesi dall'omicidio di Lucio Niro aveva 30 anni quando fu ucciso con un colpo di fucile da caccia in una stradina tra Santa Croce del Sannio e Morcone una scorciatoia che stava percorrendo la notte tra il 10 e l'11 febbraio del 2008 tornava a casa a Baranello dopo essere stato a Santa Croce dalla fidanzata che avrebbe dovuto sposare a breve aspettavano una bambina per quell'omicidio unico imputato Domenico Felice agricoltore anche lui di Santa Croce del Sannio. Il processo di primo grado si è concluso nel 2011 con l'assoluzione di Felice che ora tornerà ad essere giudicato per l'appello. È stata infatti fissata la data a Napoli il 13 giugno dopo sette anni dal primo processo dopo un'attesa lunga ed estenuante per la madre e il padre di Lucio, per il fratello Giovanni. Proprio di recente c'era notificato appunto la convocazione per il 13 giugno ore 9, seconda sezione della corte d'assise d'appello di Napoli. La famiglia di Lucio Niro è rappresentata dall'avvocato Angelo Piunno. Cercheremo insieme alla procura di dimostrare appunto la fondatezza di quelle accuse che poi in effetti si basa su indizi che secondo la ricostruzione operata dalla pubblica accusa dovranno essere appunto gravi, precisi e concordanti invece non hanno trovato accoglimento davanti alla corte d'assise di Benevento che in effetti poi ha assolto l'unico imputato che era Felice Domenico. I punti essenziali sono il movente, l'arma del delitto, la mancanza proprio di un alibi diciamo che avrebbe quella sera quando sono accaduti questi fatti e tutta una serie di ricostruzioni che poi si è operata nel corso del processo di primo grado. Lo stesso avvocato Piunno ha rimarcato il dolore che ha accompagnato e accompagna ancora i genitori e il fratello di Lucio Niro in attesa di sapere chi ha premuto quel grilletto in attesa di giustizia. La famiglia ha vissuto in un modo drammatico questa vicenda perché a distanza di sette anni celebriamo il processo d'appello. Il primo per la verità è stato abbastanza celere perché nel giro di un paio d'anni quindi hanno fissato l'udienza e quindi c'è stata una sentenza. Ecco se noi pensiamo che proprio l'altro ieri siamo stati presso la corte d'assise di Salerno, la corte d'assise d'appello, quarto grado di giudizio, un omicidio del quale mi sono occupato qui a Campobasso, cioè tra primo e secondo grado qua a Campobasso si è concluso in due anni e mezzo. In quattro anni abbiamo fatto quattro gradi di giudizio e meno male che la volevano togliere la corte d'appello, cioè in Italia dove funzionano gli uffici giudiziari li vogliono sopprimere. Qua addirittura siamo a dieci anni, probabilmente faremo anche una cassazione, quindi arriveremo a 12, 13, 14 anni per venire a capo da una vicenda. Tutto sommato poi è abbastanza semplice perché si trattava di un posto dove è accaduto questo fatto, dove abitavano sia e no tre quattro famiglie. Quindi non è che è un omicidio che è accaduto in una città grande, diciamo, dove la ricostruzione poteva essere anche abbastanza difficile, l'indagine è particolarmente complessa. E proprio la corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado condannando a quattro anni e quattro mesi di reclusione l'autista di autobus di Larino ritenuto colpevole di atti di pedofilia su una ragazzina di 13 anni. I fatti risalgono alla primavera del 2015 quando l'uomo venne scoperto in macchina con la minorenne dalla zia della ragazzina. Fu la donna a portare soccorso alla nipote e al pronto soccorso di Termoli dove la 13enne raccontò di essere stata abusata dall'autista. I giudici Pupilella, Paolitto e Fiorilli hanno confermato la pena compresa l'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole, soddisfazione dalla parte civile rappresentata dall'avvocato Michele Urbano. A Termoli bufera sul sindaco e sull'amministrazione dopo la notizia che ha un po' destabilizzato la città, quella di aver perso la bandiera blu, la minoranza chiede le dimissioni del sindaco. Ce ne parla Manuela Iori. Qualunque sia il motivo della mancata assegnazione della bandiera blu dopo 15 anni consecutivi di conquiste, per l'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca, politicamente un risultato fallimentare. Ne sono convinte le minoranze al comune di Termoli che hanno bocciato la gestione del centro-sinistra. Il centro-destra, che questa volta si è mostrato compatto con la presenza anche di Remo Di Giandomenico e Francesco Roberti, ha chiesto la testa di Sbrocca. Dimissioni senza appello, questa la parola che è circolata di bocca in bocca tra i vari esponenti intervenuti in piazza Bisceglie, con affaccio proprio sul depuratore, principale indiziato della mancata assegnazione. Le ripercussioni rispetto a questa mancata assegnazione sono terrificanti e riguarderanno non solo insomma gli operatori della città di Termoli, credo che riguardi anche l'intera città, ma se mi consentite anche l'intero Molise, perché non avere una bandiera blu per la città costiera più grande della pur breve costa molisana, ha un effetto assolutamente devastante rispetto alla promozione turistica, rispetto anche all'immagine che non solo Termoli Molise dà all'esterno e non solo all'Italia, anche in Europa. La qualità delle acque è buona, ma per i balneatori il ritiro della bandiera blu rappresenta un danno d'immagine per la città. Abbiamo chiesto spiegazioni sicuramente al sindaco Sbrocca, chiarimenti al riguardo, visto che comunque la balneabilità delle acque e la qualità delle acque è eccellente, quindi purtroppo parecchi turisti legano molto la bandiera blu alla qualità, solo alla qualità delle acque, però su questo fronte vogliamo rassicurare comunque i turisti che comunque le acque a Termoli sono eccellente, una qualità eccellente, secondo i dati ARPA. Dello stesso parere anche il Movimento 5 Stelle che ha puntato il dito non solo contro la cattiva gestione del depuratore, ma anche contro una serie di altre criticità, come il crollo al 38% della raccolta differenziata, anche questa, secondo i grillini, da imputare al mancato controllo dell'amministrazione sulla società che gestisce il servizio, la TEAM, in proroga ormai da quasi tre anni. Critiche anche alla mancata apertura, data come imminente, del depuratore del Sinarca e alle opere di connessione che ancora mancano alla struttura del nucleo industriale. Impianti che alleggerirebbero di molto quello del porto, ormai vecchio al collasso. Tra il depuratore e la passeggiata dei Trabucchi sono intervenuti tutti i neoletti consiglieri regionali e il senatore Fabrizio Ortis. Noi vogliamo evidenziare questo ennesimo scempio che ha subito la città da parte di un'amministrazione che purtroppo in quattro anni ha fatto ben poco per evitare tutto questo. È chiaro che non ci soffermeremo solo su questo perché davvero poi potremmo essere tacciati per sciagalli. Termoli non è solo un depuratore mancato, non è solo una bandiera blu mancata, ma è molto di più. È una città che dà molte possibilità turistiche, è una città che dà molte possibilità alle famiglie di venire qui in città, vivere la città ma soprattutto il mare. Per cui il Movimento 5 Stelle denuncerà lo stato dei fatti ma sarà anche propositivo. E oggi a Termoli esercitazione congiunta di Capitaneria di Porto, vigili del fuoco che hanno simulato il soccorso a largo e lo spegnimento di un incendio su un peschereccio con lo svuotamento dell'acqua accumulata nella sala macchine dalla barca da pesca, prima in mare aperto e successivamente dopo l'attracco in banchina. Tra i mezzi utilizzati una motovedetta della Guardia Costiera che ha coordinato i soccorsi, una moto ad acqua, un battello pneumatico dei vigili del fuoco che sono partiti per l'intervento rispettivamente da Campomarino e da Termoli. Andiamo ora a Isernia dove in Consiglio Provinciale passa il consuntivo con un avanzo di 820 mila euro ma agli occhi restano puntati sui disagi per la viabilità, in particolare imputate principali sono la Fresilia e la Sangritana. Enzo Di Gaetano. Buone notizie per i conti della provincia di Isernia dove il rendiconto di gestione è stato approvato con un avanzo di amministrazione di 821 mila euro. Un risultato eccezionale se si pensa al profondo rosso delle casse di via Berta fino a pochi mesi fa. Ma dove la situazione non è migliorata è sulla viabilità provinciale senza né fondi per la manutenzione né fondi per l'assunzione dei cantonieri che restano fuori dall'ente. Comunque qualche buona notizia arriva da Frosolone dove intanto sono ripresi i lavori della Fresilia. La viabilità provinciale purtroppo è da terzo mondo e non è una novità, è una cosa che stiamo dicendo in tutte le lingue da diverso tempo. Non vale solo per la provincia di Isernia ma per tutte le province d'Italia. Sono stato in ubio la settimana scorsa per un incontro per richieste di avanzare al governo centrale per quanto riguarda i finanziamenti per tutte quante le province. Molte province non chiuderanno il bilancio quest'anno, circa il 70% non chiuderà il bilancio. Noi lo approveremo. Però l'emergenza finanziaria rimane per tutti. Rimane anche per la provincia di Isernia sebbene chiude il bilancio. Perché lo chiuderà il bilancio a valle di tanti tagli, a valle di tanti servizi che purtroppo ricadono sui cittadini. La provincia di Isernia un po' di economie le ha trovate, un po' di soldi dalla regione. Sono stati, sono iniziati i lavori su alcune strade, su altre tipo la Presilia. Purtroppo all'onore della cronaca in questi ultimi giorni ci sono stati dei due ricorsi che hanno bloccato per un certo tempo l'inizio dei lavori che stanno partendo in questi giorni dopo il rigetto dei ricorsi da parte del Tar Morise. Purtroppo resta ancora irrisolto il problema della Sangritana, la strada provinciale 87 per Sant'Angelo del Pesco che resta chiusa al traffico pesante dopo che la provincia l'ha bloccata al transito dei tir. E resta sempre il problema di Sant'Angelo del Pesco, del blocco per i tir e tutto il resto. Lì come si risolve e quando si risolve soprattutto? Lì abbiamo iniziato una trattativa lunga, una trattativa con la regione Abruzzo perché purtroppo quella strada, la SP88 Sangrina, è una strada che è stata tremendamente rovinata da un intenso traffico di tir che servono la zona industriale dell'Abruzzo. Ed è chiaro che la sicurezza per gli utenti è la prima cosa per ogni ente e anche per la provincia di Sernia. La strada purtroppo è impraticabile, c'era un divieto di traffico e tir già da tempo che non veniva rispettato perché i tir preferivano prendere la multa e non fare un giro più lungo per poi considerare i carichi al porto. E di conseguenza siamo stati costretti a mettere dei blocchi per evitare il passaggio dei tir. La regione Molise si era già impegnata e ha già pronti sul tavolo 1.100.000 euro che non sono sufficienti per portare a termine i lavori. La regione Abruzzo si è impegnata in più occasioni, ci sono i verbali, a trovare l'altro 1.100.000 per mettere in sicurezza la strada però su questo è ancora purtroppo inadempiente. Nei giorni scorsi era stata una interrogazione al sindaco Battista formulata dal consigliere comunale di Campobasso Francesco Pilone a sollevare dubbi sulle condizioni di vigilanza e sicurezza di una casa rifugio ubicata nel capoluogo e nella quale sono ospitate donne vittime di violenza e discriminazioni. Alla base della iniziativa di Pilone la testimonianza di una ex inquilina della struttura. Sulla vicenda è intervenuta Oria Gargano, la presidente nazionale di Bifri, la cooperativa che gestisce la struttura. Bifri ha qui una sede operativa, si chiama Bifri Morise, da molto tempo lavoriamo in questa zona con ottimi risultati come in tutti gli altri territori che sono Roma, Viterbo, Napoli, l'Abruzzo e quindi con una grande esperienza più che ventennale su queste tematiche. diciamo che la casa rifugio che lavora in team con il centro antiviolenza e che viene da un progetto regionale vinto da Bifri insieme all'ambito territoriale di Campobasso è come dire un servizio d'eccellenza. Bisogna capire qual è la base, la metodologia dell'approccio con le donne che hanno esperito violenza e se ci fa caso non sto usando il termine vittima di violenza, proprio perché considerarle vittime, rivittimizzarle è veramente orribile per i loro percorsi. Il centro antiviolenza e la casa rifugio lavorano in team per l'empowerment delle donne e quindi vengono risolti i loro problemi di tipo legale, viene dato un sostegno di tipo psicologico e poi naturalmente educativi, inserimento dei bambini nella scuola e questo percorso ha una durata, ha una durata perché arriva al momento diciamo dell'empowerment, è il momento in cui le donne possono tornare nel mondo, possono rinascere. In questo caso specifico questo percorso è stato attivato con tutte le risorse in una situazione particolarmente complicata. L'intervento della Presidente Gargano va anche nella direzione di rassicurare le attuali ospiti e le potenziali nuove inquiline del centro antiviolenza. L'eccellenza di quella casa è verificabile dal follow up che normalmente le operatrici forniscono all'ente che è partner, ovvero al comune, insomma all'ambito territoriale, dove sono, come dire, riportati tutti i dati. Non possiamo assolutamente accettare che venga messo in dubbio la nostra metodologia dell'accoglienza e non solo per Bifiri, perché Bifiri talmente, cioè noi lavoriamo con le Nazioni Unite, con il Consiglio d'Europa, sicuramente abbiamo una fama ottima, ma io mi chiedo cosa sarà delle donne che ascoltano questo parlottio sgradevole, le donne che stanno pensando di uscire da una situazione brutta e le assicuro che è molto difficile autodefinirsi vittime di violenza. Due giorni dedicati alla cardiologia in programma a Campobasso oggi e domani nell'ambito del congresso regionale SICO a Molise, presidente Domenico Gattozzi e responsabile scientifico Domenico De Santis. Diverse le sessioni di lavoro dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani nella sede dell'hotel San Giorgio con decine di specialisti a confronto su argomenti tra lo scompensa cardiaco, la cardiochirurgia, la ritmologia, la chirurgia vascolare. Domenica invece a Isernia in programma un evento dedicato alla storia del sannio. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Sergio Di Vincenzo. Si chiama Iserni Norum, l'evento di rievocazione storica e di promozione della tradizione enogastronomica molisana in programma Domenica Isernia. Una giornata ricca di eventi caratterizzata da visite guidate, spettacoli e campi rievocativi, oltre a una serie di relazioni dedicate all'antico sannio e alla cultura italica. Mentre a ora di pranzo sarà possibile gustare prodotti molisani nei ristori convenzionati, ha spiegato uno degli organizzatori, Andrea Azzurlo, durante un incontro organizzato a Palazzo San Francesco. Andremo a raccontare la storia di Isernia che va dal IV secolo a.C. al I secolo d.C. Questa manifestazione è nata proprio per riscoprire il nostro territorio a 360 gradi, dalle enogastronomie alle nostre tradizioni. In associazione con altri gruppi di rievocatori e di commercianti del centro storico di Isernia e con le istituzioni, iniziamo questo percorso per denineare un quadro generale per quanto riguarda il turismo. In mattinata l'archeologo Luca Inno proporrà degli itinerari turistici alla riscoperta di alcuni tesori nascosti della città, puntando i riflettori in particolare sulla colonia latina di Isernia. Visiteranno il circuito murario della colonia latina di Isernia e a gruppi, cinque gruppi e cinque turni di visita faranno la visita appunto dello scavo archeologico sottostante la cattedrale che è uno degli scavi più importanti che abbiamo qui in Molise e l'area sagra appunto della colonia latina di Isernia. A Isernia abbiamo delle grandissime potenzialità, è come se avessimo una Ferrari, però abbiamo un motore di una 500, quindi dobbiamo cambiare il motore a questa macchina e farla andare avanti. Per Nicola Mastronardi, autore del romanzo storico Vitelliu, la manifestazione organizzata Isernia può contribuire alla riscoperta e alla valorizzazione di un periodo storico in cui il Sannio era protagonista assoluto. La regione Molise, cioè quella che oggi è la regione Molise, che era il Sannio, è stata al centro della storia nazionale e si comincia ad allargare un po' lo sguardo sul fatto che il Molise, l'attuale Molise, quindi il Sannio di una volta, fosse baricentrico nella storia nazionale e lo è stato fondamentale nella storia nazionale in vari periodi, in quei secoli prima. Insomma, in sostanza, si tratta di prendere coscienza di una grande storia che il Novecento ha dimenticato e che non è una storia locale, ma è una storia che ha assolutamente valenza nazionale. Domenica invece tutti a cavallo a Santa Maria, nella tenuta di Santa Maria a punto con il mondo della Monta Western, oltre 100 cavalieri e più di 150 team che provengono dal Molise, dall'Abruzzo, dalla Campania e dalla Lazio, si sfideranno nella cornice della tenuta di Vinchiaturo alle spalle di Harlem Design, nella manifestazione in programma dalle nove del mattino che si protrarrà per tutta la giornata, ovviamente non mancheranno birra e carne alla abbrace, come il tema suggerisce. Atmosfera meno, diciamo così, rurale, tra virgolette, quella che si è rispirata a Riccia, alle Olimpiadi della lingua italiana, nella città frentana sono arrivati centinaia di studenti da tutta Italia. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Un evento d'eccellenza che consolida un investimento culturale sull'intero territorio. Scuole provenienti da diverse regioni hanno condiviso una gara singolare che punta a rilanciare in maniera anche ludica l'importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola, le Olimpiadi della lingua italiana. Si tratta di un appuntamento che negli anni si è affermato sull'intero territorio nazionale, grazie all'impegno di tutti gli enti promotori. Università degli Studi del Molise, Istituto Superiore di Darino e da quest'anno l'Omni Comprensivo di Riccia, Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, con il patrocinio della Fondazione Lincei per la Scuola del Comune e il Supporto Tecnologico della Molise Dati. Test di abilità linguistica, quiz e altre prove hanno coinvolto le scuole primarie secondarie di primo grado e gli studenti del secondo anno delle secondarie di secondo grado. L'iniziativa, come spiegato dalla docente Unimol Giuliana Fiorentino, presidente del Comitato Scientifico e dalla dirigente scolastica Lucia Vitiello, presidente del Comitato Organizzativo, mira a richiamare l'attenzione sulla rilevanza della conoscenza della grammatica per un uso corretto della lingua e per un potenziamento di tutte le competenze linguistiche, offrendo occasioni di confronto e riflessioni sulla didattica della lingua in tutti i suoi aspetti. Un contributo di saperi e sperimentazioni che sta offrendo anche spunti di ricerca e approfondimento a livello internazionale, grazie alla collaborazione di università europee. Il programma ha previsto anche un seminario con Maria Zalesca dell'Università di Varsavia e iniziative di promozione del territorio. Ovviamente Riccia è nell'area del fortore e non in quella frentana, come ho detto poco fa. Prima di salutarci vi facciamo vedere la foto di un cucciolo, si chiama Milo, ha sei mesi e cerca un padrone, è un meticcio, è stato trovato però è già abituato a vivere in un appartamento, chiunque volesse prendersene cura può come sempre mettersi in contatto con la nostra redazione. Abbiamo concluso l'edizione delle 14, vi lascio alle previsioni del tempo, ci rivediamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti, per ora è tutto, grazie e a più tardi.